ciao ragazzi ciao ciao buongiorno a tutti come vedete dalla mia faccia e sentite dalla mia voce sono completamente afono e ho la febbre quindi anche a me succede ogni tanto poi girando video tutti i giorni succede ragazzi purtroppo oggi non riesco a girarvi il video mi sono alzato dal divano giusto adesso per girarvi questo video adesso vado a stendermi ancora ragazzi vi saluto e scusate ma ovviamente non dipende da me ci vediamo domani per il video giornaliero come sempre e forza milan ciao a tutti ciao ciao